ciao a tutti è un po che non faccio un video in italiano e quindi oggi una tantum ho deciso di farne uno quando lavorate con logic in studio se siete come me siete abituati a lavorare con secondo monitor quando siete in viaggio magari in treno o in aereo ecco che mancando il secondo monitor è come se vi mancasse un braccio e allora c'è una funzione di logic che ci permette di avere tutte le schermate che vogliamo fino a 99 quindi possiamo definire 99 schermate come se avessimo 99 il monitor cui indirizzare lo sguardo e queste 99 schermate le possiamo selezionare da qua le possiamo abilitare semplicemente cliccando su un tasto della nostra tastiera ad esempio io clicco a caso sul tasto numero 5 vedere qua in altro si è formato il 5 io sta schermata qua la disegno come ci voglia ad esempio apro il mixer tolgo l'inspetto ed ecco che la 5 è questa qua e vedete qua c'è il numero 5 premo il numero 8 e magari nell'otto voglio solo la tromba premo il numero 3 e magari qua voglio una finestra solo con l'event list bello grande ecco che avrò l'uno avrò il 5 avrò il 7 adesso vado a creare una schermata di finestra soltanto col mixer nella finestra 11 per farlo devo tenere premuto il tasto control e premere 11 11 e adesso chiudo pure questa schermata qua scusate per chiudere devo andare su window open mixer command 2 questa qua adesso posso chiuderla ed esco che ho ingrandito la mia finestra ed è quello che succede anche quando vedete che logic non c'è più mi sarà capitato a tutti voi che è un certo punto non avete più niente di che il mio progetto è sparito non è sparito è solo che dovete premere lo screenset 1 o lo screenset 2 o lo screenset 7 8 li trovate qua si chiamano screenset per poter tornare alla schermata dove c'è un progetto effettivo uno screenset può essere anche loccato perché immaginate che io zoom in sta zona qua che mi interessa poi cambio schermata di torno nella 1 ed ecco che rivedo la schermata dove sono tornato però una volta che io zoom indietro quella schermata lì mi rimane poi persa se io voglio loccare una schermata a alla mia visualizzazione posso andare su lock io ho loccato la schermata adesso com'è quindi anche se io torno indietro di uno zoom vado su 5 poi torno sull'uno ed ecco che nella posizione in cui l'avevo loccata nella visualizzazione in cui l'avevo loccata e lo vedo dal fatto che c'è un pallino questo pallino qua indica che la mia schermata è loccata che altro dire control 99 o la 99esima schermata le mie schermate le posso cancellare andando qua posso duplicarle rinominarle tipo questa la posso rinominare in mixer main posso cancellarle loccarle e ovviamente anche allo carle spero che questo video sia utile per tutti quelli che non riescono più a vedere i progetti che avevano aperto per tutti quelli che amano viaggiare che devono viaggiare per lavoro e auguro a tutti un buon venerdì ciao a tutti buon fine settimana grazie ciao